Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese, ha partecipato ad un'iniziativa sul clima questa mattina in Senato e ha pronunciato parole dure. Voi non volete comprendere, ha detto, non siete interessati ad ascoltare cosa dice la scienza, ma solo alle soluzioni che vi consentiranno di continuare come avete fatto finora. La Presidente Casellati ha ringraziato Greta per aver portato i temi ambientali al centro del dibattito politico internazionale.